Buongiorno a tutti, oggi vi voglio tornare a parlare di antiparassitari, quale è migliore utilizzare. Allora, in allevamento noi utilizziamo sia l'Advocate, questo prodotto qua, per il quale serve ricetta medio veterinaria, che protegge il nostro cucciolo a tutti i parassiti, sia interni che esterni, tranne le zecche, e l'Advantix, che invece protegge il nostro cucciolo per pulci, zecche e flebotomi. Noi per i cuccioli preferiamo utilizzare l'Advocate, perché come dicevo è un prodotto più ad l'ampio spettro e lo difende sia per gli acari degli orecchi, strongili formulari, molto molto importante nei frenchi per la demodettica. La demodettica è un acaro che vive nel derma del cane e quando incontra un cane tipo bull, quindi con il derma più spesso, le ghiande sebacee più ampie, trova un terreno particolarmente fertile per potersi riprodurre e dar vita alle dermatite, tra l'altro la demodettica è una delle principali cause di dermatite nei frenchi. Come lo andiamo ad applicare? Utilizziamo il tappo per aprirlo, poi lo applichiamo sul dorso del cucciolo e poi diamo leggermente contro pelo per essere certi che entri a contatto con la pelle del cane per poter avere un migliore effetto. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.